buongiorno a tutti sono cristina e vi do il benvenuto nel mondo degli occhiali il mondo di ottica piccinini a viguzzolo in un ambiente accogliente e rilassante potrete scegliere tra i modelli di occhiali da vista e da sole le più ricercati marchi del settore personalizzandoli con la qualità delle montature e delle lenti che preferite lo spazio cui tengo molto è il baby corner dove i bambini fino a 12 anni possono scegliere il loro futuro occhiale toccandolo guardandolo annusandolo oppure possono divertirsi giocando mentre i genitori si dedicano i loro acquisti presso l'ottica piccinini è possibile effettuare il controllo della vista computerizzato oltre all'assistenza sull'occhiale usato vi aspetto tutti a viguzzolo in via primo maggio 84 ottica piccinini il tuo punto di vista